Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info no no c'è l'ha ora devi prenderla un po' a sinistra con la ruota un po' sul bordino qua se non non ce la fai un po' di male adesso puoi andare indietro anche qua Augusto vai, vai nuovo, passa da qui, vai più medio vai raggiù indietro al 4-4 metri per indietro poi tagli del carro se la fai sta qui dentro vai su rimetto il cavallo, lo metto qui prendi un po' di spinta e vai tu con del carro comando, comando, comando comando, 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 comando conando metto Grazie